Siamo in compagnia di Giorgio Vasta che presenta oggi al pubblico e alla critica popolare il suo libro Spaisamento, finalista del Premio Nazionale di Narrativa a Bergamo. Giorgio, un libro che è un viaggio di ritorno nel Palermo di oggi, ma che tutto sommato rappresenta un viaggio nell'Italia intera, perché Palermo rappresenta l'Italia intera. Sì, l'idea è quella di utilizzare un campione di spazio, Palermo, e di tempo, tre giorni, per provare a fare il punto sull'Italia contemporanea, metterne in evidenza tutto quello che c'è di traumatico, di insostenibile, a cui però siamo riusciti, ed è un fatto incredibile, sconcertante in sé, ad abituarci. Penso che qualcosa in cui da italiani ci siamo specializzati in questi anni è ritenere che le responsabilità, nel bene o nel male, siano sempre degli altri. Si attende una figura messianica che verrà a risolvere i problemi politici e sociali, e allo stesso tempo si individua sempre fuori da noi un carnefice. Da autore quale sei, girerai molto l'Italia. Ti sei reso conto che tutta l'Italia è paese, oppure sopravvivono ancora delle differenze tra città-città, tra realtà e realtà? È curioso come questi siano gli anni nei quali le specificità locali vengono enfatizzate, in forma di festival, in forma di sagra, c'è una specie di sottolineatura fortissima di quelli che sono i dati locali più eminenti e più evidenti. Allo stesso modo è come se molte differenze che erano presenti nel passato si fossero ridimensionate, cioè credo che la sensibilità media dell'italiano contemporaneo non conosca oggi grandi differenze tra Palermo, Bergamo, Roma, Napoli e Milano.